Hi mom, what do you think? Look at my shoes, aren't they great? My God, you look like a gangster. Salve a tutti, siamo qui oggi al nostro cine podcast. Noi siamo i Goodfellas e ci piace il genere criminale. Abbiamo un ospite molto speciale, un ospite che è stato protagonista di un ruolo che Roma a un certo punto l'ha temuto. Si chiamava Samurai, però lui è Francesco Acquaroni. Ciao a tutti, ciao a tutti. Grazie Francesco, grazie Massimiliano. Ciao Simone. Ciao Francesco. Eccoci qua. Innanzitutto grazie di essere venuto oggi qui al nostro podcast e avremmo un po' di curiosità per te Francesco. La prima, ma il ruolo di Samurai ancora ti veste addosso? Roma, quando cammini, ti chiama per nome o ti fa Asamurai? Ti è mai capitato? La seconda che hai detto, sì no, spesso mi dicono sì, Asamurai. E a te? Anche quando siamo in macchina, quando sono in motorino, mi riconoscono sì. A me mi fa piacere, saluto. È un personaggio che mi ha dato tanto e quindi sono molto riconoscente sia a lui sia a chi l'ha scritto. Insomma, è una cosa a cui sono molto legato. Ma i ragazzi che ti chiamano Samurai hanno anche un po' di timore perché Francesco è una persona squisita. Però inizialmente quando non conosci c'ha questo volto un po' duro. Sì, alcuni si avvicinano con cautela. Posso chiedere un selfie di te? Assolutamente perché il ruolo di Samurai alla fine, cioè io quando ti ho conosciuto, giustamente non sei Samurai nella vita normale, però hai quella parte seriosa che inizialmente quando non ti si conosce bene, che poi sei una persona squisita, sei solamente molto riservato delle volte. Allora quella parte sembra un po' dura e chi ha visto come me Samurai, che è piaciuto su burra, mi dicevo, ma non è che è davvero Samurai questo. No, no, assolutamente, ti abbiamo temuto, ti abbiamo temuto. Ah sì, eh? A me devo farci più caso a questa cosa. No, in realtà non è che sono riservato, ma sono cauto. Scauto. Perché questo è un ambiente molto bello, molto variegato, però a volte devi prima capire con chi hai a che fare, perché ci sono anche tante persone, appunto, poco serie. Assolutamente sì. E allora prima di rilassarmi... Prima di sorridere. Devo capire chi ho davanti. Ah, questo è giusto, questo è giusto. Allora Francesco, ho una domanda per te. Genere criminale. Qual è il tuo film che ami di più di quel genere? Che ti sei portato dietro nella tua vita, che ti ha dato... Non lo so se c'è, assolutamente. Qual è che hai preferito di quel genere? Ce n'è uno? Ce n'è almeno un paio. Va bene. E uno è Hit, La sfida, la regia di Michael Mann, con i grandissimi... Al Pacino. Al Pacino e De Niro. E poi un altro che ho amato è... Ma c'è sempre Pacino, che è un attore straordinario, naturalmente. Ma insomma, sono diversi gli attori che io ammiro molto. Però, per quanto riguarda il cinema criminale, io credo che anche Carlitos Way sia un capolavoro assoluto. Al Pacino, sul film che hai detto, purtroppo faceva il poliziotto, però. Perciò ho amato quel film, sì, ho amato quel film, però mi ha stonato lui col distintivo. Io ho all'altra parte. Sì, no, perché per me Al Pacino è Scarface, no? Ah, anche. Però è un film assolutamente bellissimo, come Carlito, che ci hai detto, dove lui odia, cioè, vuole cambiare vita, però la vita ormai... Lo richiama. Lo richiama. Lo richiama. Ehi, Carlito. È il passato che parla. Eh sì, assolutamente. Come se le ricorda Max le battute pochie. Vabbè, l'ho visto da che se no, e va bene, perché sono un appassionato, mi piace. Ma anche io faccio così, io i film che amo li guardo 30 volte. Poi ogni volta scopri qualcosa di diverso. Sì, sì, sì. Ad esempio, Ita e la sfida, ogni volta che passa in televisione, e io vedo che inizia il film, me lo devo vedere tutto, non riesco più a staccarmi, lo devo vedere. So come va a finire, soffro ogni volta, però... Però è un'emozione sempre, è quello, la forza e il potere anche dell'attore che riesce a entrarti dentro. Del cinema proprio. Vabbè, tu Francesco sei un attore, sei un attore bravissimo. Grazie. E non hai fatto solamente Samurai. No, no, no. Io sono sincero, ho fatto una scoperta su Wikipedia di te e ho detto, ma tutti questi film, ma poi generi differenti. Ti ho conosciuto poi su A casa tutti bene di Gabriele Muccino, dove, sì, è vero che è solamente la prima puntata e poi sei morto, ma sei rimasto in vita due stagioni. Cioè, allora diciamo, assolutamente, l'attore e quella tua frase che hai detto a Laura Morante, che è rimasta proprio su quel trailer, da adesso un po' e tu per me non sei niente. Questa era. Ebbè. Era così? L'ha fatta grossa, eh. L'ha fatta grossa. Era così? L'ho detta bene? Sì, sì, bravo. Bravo. Se un giorno mi serve un doppiatore, e dico, ma chiamate un po' Massimiliano. Io e te, vero, e sono a casa tutti bene, proprio. Certo, no, se posso, visto che stiamo parlando un po' di ricitazione, sono curioso di sapere come è iniziata un po' la tua carriera, visto che è. È curioso, Simone? Io sono qui a scuola. Ma guarda, io ho fatto questa scuola che durava tre anni, erano tutti i giorni, sei ore al giorno, un'accademia privata che si chiamava La Scaletta. Ah, a Roma? A Roma, a via del Collegio Romano. E dopo tre anni ho cominciato a lavorare subito, però in teatro. È la vita che ha scelto. Io avrei cominciato subito con l'audiovisivo anche, perché amo tutti e due. Però ho cominciato col teatro e è andato avanti fino al 2010, diciamo. quando poi ho fatto due parti che mi hanno un po' svoltato verso l'audiovisivo, che sono una parte piccola nel romanzo criminale, nella seconda stagione, dove facevo Il padre del Libano. Ah, è vero. Non lo so. Ma nella serie. Nella serie. Sì, nella seconda stagione. Il padre del Libanese, però... Due scene. Eh, perché adesso me lo ricordo. Due scene. E poi subito dopo ho girato con Vicari... Ehm... Parti dalla musichetta di... Ma che? Sono libanese. Il romanzo criminale. Ah sì, questo. Ma allora abbiamo il papà del libanese. Abbiamo il papà del libanese. Scusa, abbiamo il papà del libanese. Ieri abbiamo fatto il libanese. Io stavo con il libanese! Sì, libanese! Mi alzi il cuffio un po'. Eh sì. E poi ho fatto Diaz. Ah, Diaz. Con Vicari. E questi due, diciamo... Queste due cose che ho fatto nel 2010. Più o meno mi hanno... Ho sentito l'attenzione che cambiava. E quindi 2010? Quando è iniziato? Cioè, quando è che ti sei deciso... Ok, voglio fare cinema? Quando è che voglio fare cinema? No. Quando è che voglio fare l'attore? Beh sì, nell'82 mi sono iscritto a scuola. Avevo vent'anni. Mi sono iscritto. Nell'85 mi sono diplomato. Ho cominciato a fare qualcosa in teatro. Poi sono partito militare, perché all'epoca si partiva ai militari. E poi ho ricominciato a lavorare subito dopo. E devo dire che è andato abbastanza bene. Certo, il mondo del teatro è un mondo particolarmente difficile. Però, insomma, il teatro per un attore, il teatro è casa. Francesco, se dovessi pensare a tutti i ruoli che hai interpretato nella tua carriera, qual è il ruolo che ti è rimasto, togliendo samurai, che quello ti è rimasto addosso anche perché la gente, però che ti è piaciuto proprio interpretare, che l'hai sentito e hai detto mamma mia, questo... Cioè, perché penso che ogni attore poi ha... recita tutto, però ha quello che... Diciamo predisposto, oppure gli è piaciuto di più. Qual è stato? Con regista, pure tutto. Guarda, la prima cosa che ho fatto è stata quella. Era dal Rosso e Nero di Stendhal. Io facevo il conte di Altamira, che è un personaggio meraviglioso. Poi, tra l'altro, nella riduzione televisiva erano tre personaggi del romanzo in uno. Ti parlo del 97 e questo uomo brillante che portava il giovane Julien Sorel nella Parigi che conta, devo dire che è stato meraviglioso. Era un personaggio bizzarro, eccentrico, ma conosciuto da tutti, amato da tutti ed era molto brillante. Devo dire che mi sono trovato benissimo ed è il personaggio che mi è rimasto più nel cuore, anche se purtroppo quel Rosso e Nero in Italia non andò bene. Andò benissimo in Francia. E' stato venduto in tutto il mondo, compresa in Italia, che era tra l'altro coproduttrice, perché il protagonista, infatti, non era francese. Era Kim, il nostro Kim Rossi-Stuart, che salutiamo, un caro amico. Ti aspettiamo, Kim. Lo invidiamo. straordinario attore e tra l'altro credo che debba proprio a lui il fatto che il regista abbia pensato a me, perché credo che lui abbia detto ma prova a vedere Francesca Quaroli, che naturalmente il regista si chiamava Jean-Daniel Verag, era belga e non credo che mi conoscesse, anzi sono sicuro di questo. Quindi fatto questo personaggio a me mi è rimasto nel cuore. Lo voglio vedere. Ah, fantastico. Devo cercarlo e lo devo vedere, assolutamente. Il rosso e il nero. Ma tantissimi film che non escono in Italia, hanno una vita speciale fuori, e a noi ci arriva quello che... A volte sì, a volte sì, a volte succede. E poi anche tutti i personaggi che non ho fatto. Tipo, quale faresti? Ecco, quale faresti? No, che non l'ho fatto perché magari sono arrivato lì... Ah, scusa, no, no, ok. No, io per un attimo ho pensato... Mi faresti tutti. Quello che non hai fatto, senza dire qual è stato, che più ti è rimasto che lo volevi fare, che personaggio era? Senza dire che cos'era che non era. Le caratteristiche del personaggio. No, 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 era in realtà... Era uno spettacolo teatrale che poi non si fece più perché insomma il produttore purtroppo insomma venne a mancare. insomma era una cosa un po' sfidabile e poi sono dovuto partire militare e quindi non si è più facile. Non era cinema, era teatro. No, no, era teatro ed era padre Kolbe che è un eroe martire della resistenza polacca ed era perché ricordiamo c'era all'epoca c'era il papa Wetila quindi erano 5-6 anni del suo papato e quindi si cominciò ad attenzionare tutta la Polonia e tutta la storia della Polonia. C'era questo padre Kolbe che è stato un personaggio straordinario e il testo pure mi sembrava molto bello e quello purtroppo poi è sfumata questa cosa qui e quello è un personaggio che mi è rimasto proprio perché sì... Poi se devo... Adesso mi è presa la cosa mistica ma non è quello è uno dei personaggi che mi piacerebbe fare più in assoluto è la storia di San Paolo. San Paolo Perché San Paolo era un cattivissimo ed efficientissimo legionario romano che ad esempio sovraintese l'esecuzione di Santo Stefano da legionario fu lui a organizzare tutto quanto e poi San Paolo viene folgorato come si sa che cade da cavallo viene chiamato e cambia completamente vita e diventa tant'è che diventa santo è uno dei due patroni di Roma San Paolo e San Pietro quindi è una storia talmente forte e c'è questo cambio non dico dal male ma insomma da qualcosa che gli si avvicina al suo posto che... Si affascina Insomma quello mi affascina sempre mi affascina sempre questa tensione che a volte nelle nostre esistenze no? Abbiamo e quindi è una cosa molto interessante il diavoletto chissà se succederà mai sicuramente qualcuno che sentirà questo podcast verrà l'idea scriverà qualcosa i personaggi di San Paolo scusa Francesco io ho una sceneggiatura per caso però non è sbagliato ma che hai visto il podcast ma no ma perché ma sicuro no senti Francesco una mia curiosità quando interpreti questi ruoli no? cambi ruolo giustamente cambi personaggio dal cattivo al buono al papà è quello che fai quando finisce te lo porti dietro per un po' oppure lo lasci questa è più una domanda di metodo scoprire il tuo metodo oppure le tue emozioni poi come le lasci via no no lo lascio lo lasci subito assolutamente sì perciò non vai in Strasbourg ma quello è un metodo che può anche servire per arrivare sì quando sei arrivato e quando l'hai compiuto basta basta sai una volta parlavo con il maestro Giancarlo Giannini del metodo Strasbourg che saluto ieri stavo insieme di cui l'ho invitato al cinepodcast e mi ha detto vediamo e gli parlavamo proprio del metodo Strasbourg di entrare in un personaggio no? e lui mi fa come fai a fare il morto? cioè qualcuno mai è ritornato indietro cazzo c'ha ragione dice cioè allora allora come faccio ad entrare dentro un morto? e poi che fa mi sveglio per me detto il metodo sono io ha perfettamente ragione io ho detto va bene maestro tu devi tu la tua immaginazione sì quello che hai dentro lo ricorda è la tua soluzione la tua soluzione in base alla tua persona cioè quello che funziona su di te non è detto che funziona abbiamo parlato dopo la lezione tipo di Shanna che prende urla prima della preparazione prima di andare in scena e tu Francesco ci hai detto che in realtà ti basta la concentrazione e devi stare ognuno ha un suo metodo questo è un lavoro appunto artistico quindi è individuale dall'inizio alla fine quindi ognuno deve trovare la sua strada il suo bottone l'importante è il risultato come dire certo quindi alla fine sì il metodo che hai l'importante che riesci a portare a casa il risultato certo poi adesso il metodo più che insomma riguarda come metodo metodologia quella della reminiscenza emotiva quello è un percorso molto interessante molto interessante molto utile secondo me senza andare a esagerare cioè senza andare ognuno al proprio all'integralismo capito perché l'integralismo secondo me è sempre sbagliato ci sono persone che pensano pure come devono partire con il piede vabbè per stare in carica ognuno decide l'ascolto la situazione sì 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 ma insomma voglio dire noi non siamo integralisti come gli americani che sono hanno questa tendenza a fare tutto al 200% che non capisco io dove li porti più però vabbè sono americani sono americani poi perché sì sono americani però insomma hanno anche una scuola di cinema straordinaria hanno anche un mercato diverso hanno una lingua che è più semplice sono americani come si dice un'ultima domanda dica la più pericolosa di domanda no un'altra curiosità con samurai non c'è pericolo un tuo provino che hai fatto eri tendenzialmente ansioso perché era importante per te pensavi di non farcela e poi l'hai preso curiosità perché adesso sei un professionista ci sarà stato un momento che eri di prime armi e perciò sai non eri abituato a fare i provini tante volte neanche li fai perché sicuramente ti chiamano registri che già ti amano e ti dicono sei tu questo maggior parte delle volte sicuramente sarà così ma da ragazzi certamente ogni provino sembra la cosa più importante del mondo quindi c'è grande tensione un aneddoto di un momento di un ricordo sai che non mi ricordo perché io non so perché anche quando andavo a scuola gli esami le interrogazioni erano i momenti in cui io mi trovavo bene a mio agio ecco perché pensate è samurai no no non lo so perché no perché mi viene come una specie di tranquillità che non so da dove arrivi c'è l'ansia e la tramuti in sicurezza in sicurezza posso avere anche attacchi di ansia prima ma poi quando entro là io non so che mi succede è come è come ah sto a casa ad esempio la prima volta quando sono andato a fare Fargo in America e lì devo dirti la prima volta che sono andato sul set mi sono sentito un po' la vocina dentro di me che mi diceva ce l'hai fatta sei addirittura in un set meraviglioso americano quindi ce l'hai proprio fatta e quindi questa cosa però da una parte mi faceva piacere dall'altra mi generava ansia perché cioè insomma perché era una cosa enorme la vedevo come una cosa è un po' come quando ero ragazzo che ogni provino mi sembra una cosa enorme pensa se lo vinco pensa che è figo e poi ti giuro sono arrivato sul set boom boom casa 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 mia tanto il linguaggio della recitazione l'arte tutte le arti sono sono un linguaggio universale come la musica ti trovi là passato tutto è passato tutto incredibile incredibile e boh non lo so perché è una tua dote per questo per questo sei Francesca Acquaroli esatto se no non vogliamo scoprire se no non vogliamo scoprire è così allora prima che chiudiamo a sto punto se vogliamo andare se vogliamo dare qualche consiglio ai ragazzi che vogliono iniziare a studiare recitazione dunque sai la recitazione sembra qualcosa di approcciabile di semplice e in effetti recitare non è complesso è semplice ma è difficilissimo quindi io consiglio i ragazzi e le ragazze che vogliono fare questo mestiere di approcciarsi a qualcosa che richiederà tutto il loro impegno e tutta la loro concentrazione e determinazione perché poi al di là del fatto che tu sia bravo o non bravo c'è la difficoltà del mestiere che è una cosa a parte e dove lì ci vuole fortuna devi essere giusto ci vuole il momento giusto ci vogliono tante cose che non dipendono da te l'universo quindi tu ci devi mettere tu ci devi mettere una gran pazienza una grande forza di volontà di determinazione non farti abbattere dalle sconfitte dalle e andare avanti e andare avanti come diceva il grandissimo Edoardo De Filippo in un famoso discorso che fece poco dopo morire si capiva che era era una specie di testamento che lui stava regalando a chi lo ascoltava insistere 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 questo è il mantra degli attori bellissimo e perciò su insistere 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 chiudiamo questo cinepodcast criminale e grazie a Francesca Quarocchi grazie a voi grazie a voi è stato un piacere insistere insistere wow ciao ciao grazie a tutti grazie a voi grazie a voi